Have you ever fell? Are you listening? Damn Bello a tutti ragazzi Siamo qui in Minecraft Siamo qui Sono Renagraff in beta ancora Come si vede Qui con me c'è Lucky Love Vi siete in questo video Ciao Lucky Love Ciao E poi vorrei che siamo qui CorinaGraf ti faccio vedere La mia ultima costituzione che ho fatto E adesso Ve la faccio vedere e vi lascio la musica Bella Uh Yeah Uh Yeah Uh Oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.